benvenuto nella rubrica per l'act per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la mindfulness e l'act immagino ti sia capitato di accorgerti di essere nella tua mente immerso nei tuoi pensieri quindi non realmente presente consapevole di quello che ti sta accadendo intorno a te a me è successo proprio questa mattina quando sono andata a portato mio figlio a scuola e a un certo punto lui mi ha detto mamma abbiamo saltato il cavalcavia non l'abbiamo fatto il cavalcavia che facciamo insomma proprio veramente tutte le mattine e anche io non mi ricordavo di averlo fatto sapevo di averlo fatto perché quella era la strada ma non avevo proprio memoria anche solo due minuti dopo di averlo fatto e quello era stato perché entrambi se io che mio figlio eravamo immersi nei nostri pensieri nel eravamo da un'altra parte non eravamo attenti non eravamo lì nel nostro qui e ora in questo esempio non succede niente niente di che semplicemente non ci siamo accorti non ci siamo accorti del fatto di avere di essere passati su un cavalcavia vabbè pazienza però possiamo capire invece le implicazioni di fare di avere questa modalità di essere sempre nella nostra mente di essere in questo di essere sempre sotto questo rumore di avere nella testa questo rumore chiacchiericcio sempre in sottofondo anzi a volte proprio in primo piano capiamo quanto possa essere problematico in altre situazioni o se veramente fatto con una grande frequenza intensità quello che vi posso dire che è normale perché la nostra mente è fatta così la nostra mente si è evoluta come una macchina risolvi problemi se vi interessa il video appare qui in questo momento potete cliccare poi ve lo metto anche in descrizione perché la nostra mente è una macchina risolva i problemi in questa parla vi ricorderò solo vi dirò solo che la nostra mente appunto è stata è evoluta sia evoluta per risolvere i problemi per permetterci di sopravvivere e quindi quello che fa è se abbiamo un problema macinare sempre non stare lì pensare 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 se il problema non c'è in quel momento li va a cercare per poi risolverli quello è il suo lavoro ma il nostro lavoro perché noi non siamo la nostra mente la nostra mente è una parte di noi il nostro lavoro è quello di scegliere se ascoltare e alimentare tutto questo chiacchiericcio mentale o e o se e quando invece non farlo e essere presenti attenti a quello che ci succede a quello che accade fuori e dentro di noi e questa volta è un problema perché ci perdiamo dei dettagli importanti ci perdiamo delle occasioni ci perdiamo delle esperienze o dei dettagli delle esperienze che invece se fossimo pronti a notarle ad accoglierli allora ci renderebbero magari anche la vita più piacevole e significativa è più degna di essere vissuta così come se non siamo attenti ai segnali che provengono dal nostro corpo che possono essere sensazioni fisiche o avere proprie emozioni anche qui ci stiamo perdendo tanto stiamo perdendo delle occasioni di prenderci cura di noi dei nostri bisogni delle nostre emozioni e desideri e quindi è importantissimo imparare a fare silenzio perché più fai silenzio più riesce a sentire più riesce a sentire quello che c'è fuori che capita fuori di te intorno a te che ti può essere veramente di fondamentale aiuto nella sua vita quotidiana e ancora a volte forse di più oppure allo stesso modo in realtà integrando anche l'attenzione a quello che provi tu a quello che senti a quello di cui hai bisogno e quello che desideri quindi quel che ti invito a fare oggi ogni giorno di questa settimana come allenamento per la tua crescita personale anche il tuo benessere psicofisico è quello di prenderti dei piccolissimi dei brevissimi momenti in cui fai silenzio che significa non che devi scacciare i pensieri non pensare non pensare a determinate cose che ti stanno passando per la mente devi spegnere la radio dei tuoi pensieri perché forse ci avrei anche provato ma non è possibile quello che forse puoi fare è scegliere di essere uno spettatore di quello che sta accadendo dentro di te per esempio quindi osservi sì ci sono i pensieri ma c'è anche altro ci sono sensazioni fisiche c'è il tuo respiro ci sono le emozioni così come c'è tutto questo all'interno del tuo corpo mentre c'è altro al di fuori del tuo corpo qualsiasi cosa che puoi percepire con i tuoi cinque sensi sei uno spettatore osservi quello che sta accadendo in quel momento in quel momento quindi fai silenzio e se fai silenzio puoi davvero sentire tantissimo fai una prova e vedi se e come ti può essere utile se ti è piaciuta questa perla e ne vuoi ricevere una ogni settimana per la tua crescita personale allora iscriviti a questo canale e clicca sulla campanella e riceverai le notifiche quando uscirà ogni nuovo video